Un giorno di bentornati, ma anche funestato dal dolore per la morte di un alpino, ieri durante la parata del raduno ricordando il battaglio nell'Aquila. La città si è svegliata colpita da un dolore grande, visto che Claudio Ianni, 75 anni, era capogruppo dei Iacobucci dell'Ana. Era una persona amata e ben inserita in tutte le attività. Raduno annullato, ma la cerimonia di saluto agli alpini rientrati dal Kosovo è stata fatta comunque, anche come momento di abbraccio collettivo alla famiglia Ianni. Avremmo voluto che fosse una festa a tutto tondo in cui Claudio avesse il ruolo che merita, cioè di capogruppo degli alpini della sezione Iacobucci. Ne parliamo al presente perché gli alpini non muoiono mai, come si suol dire, vanno solamente avanti. È un momento importante perché comunque testimoniamo la gratitudine della città al corpo, al nono reggimento che si è distinto nelle operazioni portate avanti in Kosovo durante la reggenza affidata all'Italia appunto e al nono e al colonnello Bozzi. Anche questo per noi è un segnale, è un segnale da un lato che noi continuiamo e quindi quell'andare avanti che diciamo quando uno dei nostri muore è quel senso, quel senso che non c'è più, è semplicemente passato. Ma è per noi nella memoria, nel ricordo e sicuramente la cosa ci dispiace molto. Però dall'altro lato ci impegna, ecco oggi siamo qui appunto a ricordare l'impiego del nono alpini in Kosovo e per quello che ha fatto in quell'impiego. Ma dall'altro lato vorremmo proprio ricordare il capogruppo dell'Aquila, Claudio, che andando avanti ieri ci ha lasciato un grande vuoto, ma dall'altro lato anche un grande esempio da seguire. I militari del nono reggimento alpini sono tornati a casa dopo sei mesi di missione, una missione dura e piena di insidie perché quello che sembrava un assetto normale è stato messo in ginocchio da vari scontri. Dopo le elezioni comunali, diversi alpini abruzzesi sono rimasti feriti, dimostrando ancora una volta coraggio, spirito di abnegazione e sacrificio. E la città li ha voluti omaggiare sul piazzale della Basilica di Colle Maggio, salutando quella bandiera di guerra che custodiscono gelosamente e che è una delle più decorate. Uso proprio questi sostantivi qua, spirito di abnegazione e sacrificio, fermezza, coraggio. In effetti hanno dimostrato che la missione, indipendentemente che sia a Kosovo, che sia in un'altra parte del globo, è sempre un'attività che va curata nei minimi particolari. Soprattutto poi quando si verificano dei momenti critici in cui bisogna essere pronti a intervenire appunto perché non ci sia un dilagare di quello che poteva essere una semplice scintilla. Soprattutto poi quando si verificano dei momenti critici in cui bisogna essere un'attività.